Sì, è corsa oggi la quarantesima edizione di Vivi Città. Stefania Cappa. Una corsa per i diritti, per la pace e per la legalità. Vivi Città, giunta alla sua quarantesima edizione, è partita da un luogo simbolo di Roma, la moschea, passando per la sinagoga, tagliando il traguardo a San Pietro. Anche lo sport purtroppo è stato attraversato da eventi di guerra e lo sta condizionando. Anche una corsa come quella che stiamo correndo noi oggi qui, che ha un valore simbolico come quella che stanno correndo anche in altre 38 città italiane con Vivi Città, penso che possano essere un messaggio che può dare piccoli contributi di serenità. Accanto alla gara competitiva di 10 chilometri, anche tante camminate passeggiate di 3 chilometri. Oltre 30.000 i partecipanti dal nord al sud, una grande festa di sport per tutti e per tutte, accanto alla prova competitiva le passeggiate ludico-motorie e i temi centrali quest'anno per la pace e per la legalità. A questi temi è dedicata l'edizione 2024 che ha unito centri storici e istituti penitenziari, periferie degradate e parchi urbani.